Non sempre basta la natura e così anche le api da miele prendono lezioni di volo per diventare dei perfetti Top Gun. Lo afferma un'equipe anglo-americana in uno studio pubblicato su Nature. Le api da miele vivono in comunità e iniziano la loro vita di adulte lavorando all'interno dell'alveare, come addette alle pulizie o come bambinaia. Solo quando raggiungono le tre settimane di vita escono a far provviste. Ma provate a immaginare di vivere a metà della vostra vita al buio e di avventurarvi poi in un mondo pieno di luce per cercare cibo. Sarebbe un immenso cambiamento nel nostro sviluppo sensoriale e vi servirebbe tempo per abituarvi. È quanto succede alle api, ha dichiarato Abed Capaldi, ricercatore dell'Università dell'Illinois. Resta da scoprire perché alcune api hanno bisogno di una sola prova di volo, mentre altre compiono più di 17 ricognizioni prima di ottenere il brevetto di aviatore. Per capire come le api imparano a volare, un'impresa difficile per insetti con il cervello delle dimensioni di un seme d'erba, i ricercatori hanno utilizzato un radar sonoro messo a punto nel 1996 dall'Università di Grimmins che ha permesso di seguire il volo di singoli insetti. Ma nonostante tutte le prove di volo abbiamo visto che non sempre le cose vanno bene. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e ci vediamo al prossimo documentario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.